Ciao ragazzi! Oggi vi insegnerò delle frasi indispensabili per parlare al telefono in inglese. Guarderemo una conversazione e la analizzeremo frase per frase. I'd like to speak to your manager. I'd like to speak to. È una frase abbastanza formale che usiamo per dire vorrei parlare con. I'm calling in regards to a recent job application I sent. I'm calling in regards to. Anche questo è un modo molto formale per dire il motivo per quale stai chiamando. Could you ask her to call me back? Un modo gentile di chiedere un favore si può formare con could you ask him? Ad esempio, could you ask him to email me? Could you ask him to send me something? Nello stesso modo, usando would you like me to, si può offrire qualsiasi cosa. Would you like me to take a message? Would you like me to tell him you called? I'll have him call you back as soon as possible. Per le esigenze più urgenti, un modo più risoluto per il message taker è dire I'll have him or her do something. Ad esempio, I'll have him email you. Or, I'll have him call you back. Or, I'll have him contact you as soon as possible. Adesso guardiamo insieme tutta la conversazione dall'inizio alla fine. Good afternoon, Maxine's English School. How may I help? I'd like to speak to your manager. Can I ask who's calling? My name is Andrea. I'm calling in regards to a recent job application I sent. She's not available at the moment. I see. Could you ask her to call me back? She's out on a very important business meeting at the moment, and she won't be back till next week. Can I take a message? Yes. Could you tell her I'd like to discuss the reasons why I wasn't hired for the job? Uh, yes. I'll have her call you back as soon as possible. And tell her that it's urgent, so she could call back as soon as possible. Yes, of course. Bye. Well, that's it. Un'ultima cosa. Se qualcuno sbaglia a chiamarti, o per qualsiasi motivo non vuoi parlare con qualcuno, puoi dire I'm sorry. I think I've got the wrong number. E puoi riattaccare. Bene, sei arrivato in fondo al video. Un'ultima cosa prima di andare via, se questo video ti è stato utile. L'unico modo per farcelo sapere è lasciandoci un thumbs up. Thanks for watching and see you next time.